Una risposta importante ai senza tetto della provincia di Arezzo, quella che sarà data grazie alla dimora che è stata inaugurata questa mattina nel palazzo della Caritas ad Arezzo. Il disagio non è soltanto d'inverno, questo il disagio ce l'hanno sempre, alcuni l'hanno fatto come scelta di vita addirittura di stare sempre fuori, però se c'è una possibilità di stargli vicini e di aiutarli a recuperare qualcosa, questo sarebbe già un bel progetto e un bel cammino. 20 i posti che sono a disposizione per i senza tetto, 8 addirittura possono diventare residenziali. È piccolo, vorrei averlo tanto di più, però intanto quello che c'è è un bel segnale. Il bisogno di aiuto ad Arezzo sta crescendo come dimostra anche l'ultimo rapporto Caritas. L'ennesimo rapporto annuale, quest'anno 45% sono aretini che vengono aiutati, non gente che viene fuori da chissà dove. La dimora per il momento è attiva per il periodo invernale, ma non si esclude che possa diventare permanente. Noi camminiamo insieme, la diocesi, il comune, le associazioni camminano insieme e insieme costruiscono percorsi, di cui oggi vedete una prima parte, ma continueremo a lavorare insieme perché abbiamo in testa, condivise con il sindaco, molte altre situazioni che trovano nella parola libertà e dignità le parole chiave, quindi prendetelo come il primo atto di un nuovo percorso, di un libro nuovo che stiamo scrivendo insieme e che secondo noi lascerà un bel segno alla città di Arezzo.